In gente a sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di un noto trafficante di droga della capitale già destinatario in passato di diverse misure di prevenzione di carattere personale tra quelli sottoposti a sequestro numerosi immobili e autovetture di grossa cilindrata otto le unità immobiliari a roma tre le auto di lusso una ferrari f430 un audi r8 e una mercedes ml due motoveicoli ancora quote detenuti in tre società e 18 rapporti finanziari il trafficante 47enne già nel 1990 con una sentenza della corte d'appello di roma era stato arrestato per violazione della disciplina sugli stupefacenti